C'è qualcosa di straordinario in quello che sta accadendo in Polonia, che sta accogliendo con grande generosità oltre un milione di profughi ucraini dai propri confini. Una situazione straordinaria che vede una mobilitazione crescente da parte sia del governo polacco che della cittadinanza polacca a tutti i livelli, che sta accogliendo i profughi con straordinaria generosità, qualcosa di mai visto prima in Europa. Noi siamo abituati all'accoglienza in Italia rispetto ai migranti, ma mai con numeri come quelli che hanno colpito la Polonia nell'arco di due settimane. Un milione di persone in due settimane è qualcosa di incredibile e non ha suscitato nessuna reazione nazionalista, razzista di alcun genere, ma anzi uno sforzo di solidarietà straordinario. Questa cosa va, come dire, presa in considerazione nei rapporti con la Polonia anche rispetto al tentativo di creare finalmente una vera politica europea delle immigrazioni, che possa, a partire da questa crisi, creare un meccanismo di redistribuzione automatico dei rifugiati, non solo però per la crisi in Ucraina, ma più in generale. Dal momento che oggi stiamo assistendo a una crisi senza precedenti in Europa, a causa della guerra in Ucraina, dell'invasione russa in Ucraina per essere più precisi, dall'altro però noi abbiamo un problema strutturale di gestione dei flussi migratori e dei rifugiati che va anch'esso affrontato in maniera strutturale con la politica europea delle immigrazioni.